Il commercio con l'estero ha risentito pesantemente dell'effetto Covid. Un effetto misurato dalla Camera di Commercio di Como e Lecco attraverso l'andamento di esportazioni e importazioni nel 2020, l'anno della pandemia. La bilancia commerciale nell'area lariana è rimasta inattivo, più 4 miliardi e 200 milioni di euro, ma ha registrato un calo molto importante pari al 12%. Nel 2020 le aziende lariane, Como e Lecco, hanno esportato merci per 9 miliardi e 100 milioni di euro, pari al 10,9% in meno rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, a Como le esportazioni sono calate del 12,5%, le importazioni del 9,7%. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, la Germania resta il primo paese sia per l'export che per l'import lariano. La bilancia commerciale tra l'Ario e Germania nel 2020 è positiva per 360 milioni di euro. Guardando oltre i confini dell'Europa, la Cina è il secondo paese di riferimento per le importazioni lariane, dopo la Germania, mentre gli Stati Uniti sono il terzo paese destinatario delle esportazioni lariane.